Grazie Presidente, ringrazio il consigliere Rolfi che ha guidato i lavori di questo gruppo di lavoro, ringrazio l'assessore del quale tra l'altro condivido l'intervento. Il gioco d'azzardo è una grave dipendenza, noi nelle finalità dell'articolato diciamo che questo progetto di legge è volto a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco d'azzardo lecito, sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico, sul governo del territorio, noi aggiungiamo che non bisogna neanche dimenticare le ricadute sociali e sanitarie. Tutto questo quindi che viene condiviso in premessa da parte nostra ma credo da parte di tutti perché è sottoscritto da tutti è una piaga sociale, ci domandiamo come mai, come ha detto l'assessore, a Roma le cose invece vengono viste in maniera diversa. Ci domandiamo come mai, io ho sentito degli interventi dei miei colleghi sia del PDL sia del PD-L che hanno fatto dei bellissimi interventi pieni di emotività e poi ci domandiamo il perché a Roma si va esattamente nella stessa direzione. L'ha ricordato l'assessore, quindi non lo ricordiamo noi, di queste agevolazioni sulle imposte che è stata data a Roma, si parlava di 90 miliardi e si è deciso di chiudere un occhio per tutelare queste lobby del gioco d'azzardo. Non ultimo nel decreto dell'Imu è stato inserito un ulteriore sconto del 5% su queste sanzioni. A noi questo sembra una cosa ridicola e quindi io mi auguro che i miei colleghi che hanno parlato prima di me e che hanno le rappresentanze a Roma possano fare le stesse pressioni e mettono lo stesso impegno che mettono qua per fare i titoloni sui giornali su questa tematica per andare a lottare a Roma affinché si smetta di fare queste cose ridicole. Al contempo abbiamo condiviso in gruppo di lavoro con l'assessore la scelta di osare. La Regione Lombardia sta andando con questo progetto di legge a lavorare su competenze che probabilmente non gli spettano, competenze che sono discutibili, è un problema che abbiamo affrontato, quindi quando arriveranno i ricorsi siamo già tutti consapevoli di questi rischi. La scelta è stata fatta proprio perché bisogna dare un segnale forte. Abbiamo sentito parlare nelle audizioni che si parlava di rischi anche legati all'antiriciclaggio, si parla di criminalità, scusate cercavo un termine fine. E quindi credo sia dovere da parte di tutti intervenire affinché queste cose cessino. Credo che sia un provvedimento che andrà approvato all'anonimità, gli emendamenti li abbiamo presentati per migliorare, per rendere più corretta l'interpretazione, perché appunto ieri nel gruppo di lavoro si parlava di rischi connessi ad alcune interpretazioni sul tipo di macchinetta, quindi sicuramente noi andremo a votare favorevolmente, però per favore cerchiamo di essere coerenti perché a Roma gli unici coerenti, e mi dobbiamo dirlo, siamo stati noi e le forze minori come appunto Fratelli d'Italia o la Lega, mentre le forze che sono più rappresentate in Italia e che sono rappresentate molto anche in questo Consiglio hanno due facce. Allora noi chiediamo di smetterla di essere sui territori eroi della popolazione, poi a Roma fare gli statisti ed essere coerenti nelle scelte e dire se una cosa ha questi impatti negativi in regione Lombardia non capiamo perché a Roma bisogna fare cose totalmente diverse. Quindi per favore vi chiediamo come al solito un minimo di decenza nel rispetto dei cittadini. Grazie.